La prima cosa è delusione perché poi Stefano lo sa bene, noi al di là di tutto è la passione che ci porta, ci toglieranno qualcosa di importante. Però te l'ho detto, io penso che come hai detto tu l'eccellenza dovrà ripartire per forza altrimenti la D che è anche quotata sulle scommesse diventerà un campionato farsato al 100%. Poi per quanto riguarda la ripartenza il tempo è poco, nel senso che se si riparte prima della metà di marzo penso che non si riesce a giocare, nella più rosa delle ipotesi. Dovrebbe ripartire un pochettino tutto il movimento, ma questo qua è talmente difficile perché Stefano lo sai, in eccellenza possiamo anche fare qualche turno infrasettimanale perché ci alleniamo tutti di pomeriggio, sono ragazzi che non è che, tranne qualche squadra penso, non è che lavorano, vivono di questo, perciò qualche turno infrasettimanale si può anche prevedere. Mentre in promozione, e non parliamo della prima e della seconda categoria, sarà molto ma molto difficile. L'ultima intervista fatta da un emittente televisiva al nostro presidente del comitato regionale Campania, lui parlava giustamente a tutti quanti noi, ha fatto capire che ha ricevuto i calciatori, ha ricevuto la delegazione degli allenatori, ma quello che ha fatto capire, ha fatto capire che se non ci sono i ristori per le società, giustamente, non si può iniziare. La cosa che mi fa ancora di più pensare, se in questo momento io, io tecnico di una società di eccellenza, devo stare allo stesso modo della società di serie B, fare gli stessi tamponi che fanno loro. Io faccio una domanda a voi, ma come mai non si è pensato di farlo tre mesi fa, quando è in essere lo stesso il campionato di serie B, quando tutti sappiamo che la serie B doveva iniziare, perché noi chiamiamo tutti i dilettanti, ma ci sono i dilettanti di serie A, i dilettanti di serie B, i dilettanti di serie C e via dicendo.